Il Seravezza Pozzi coglie un bel successo sul campo della San Maurese e si conferma nelle zone medio-alte della classifica, avvicinandosi a soli due punti proprio dalla squadra romagnola. All'inizio sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con una mischia in aria, ma al venticinquesimo passano in vantaggio i versiliesi. Bedini ruba palla a Gregorio sulla trequarti, entra in aria, supera il portiere, ma viene atterrato dallo stesso Gregorio. Gregorio, rigore ineccepibile che viene trasformato da Benedetti. Il secondo tempo si apre con un'entrata da arti marziali di Giannini su Maccabruni. L'arbitro recupero non ha esitazioni nell'estrarre il cartellino rosso per gioco pericoloso. Grazie al vantaggio di un uomo il Seravezza può controllare con sufficiente disinvoltura la gara. L'unico pericolo arriva al cinquantasettesimo quando Merlonghi gira in rete da dentro l'area, ma l'arbitro annulla il gol per fuori gioco. Dopo questo episodio la San Maurese spinge, ma senza più creare occasioni. E anzi, è il Seravezza a rendersi pericoloso più volte in contropiede e a portare a casa i tre punti.